Sono qui per Pasolini anche perché io ho in qualche modo, non dico una passione per Pasolini, ma una passione per la storia, la storia del cinema, la storia della cultura italiana. Pasolini è un grande esponente degli intellettuali italiani di un periodo storico decisivo. Anche Pupo tra gli spettatori del Passioni Festival ad Arezzo dedicato a Pasolini, la presenza del cantautore Arettino era dovuta soprattutto all'amicizia con Fulvio Abate che nella serata inaugurale ha presentato il suo ultimo libro, Quando c'era Pasolini. Sono qui soprattutto per fare visita a Fulvio Abate che è un mio carissimo amico, qualcuno si chiederà ma che c'entra Pupo con Abate? Noi siamo molto molto amici, ci frequentiamo spesso a Roma, stiamo insieme e quindi sono venuto a trovare Fulvio alla presentazione di questa sua opera. Sarà un'estate di concerti e musica dal vivo per Pupo che conferma ai nostri microfoni di essersi preso una pausa dal piccolo schermo Sì sì, ho già cominciato a suonare, sarò in giro tutta l'estate, non solo in Italia ma anche all'estero come sempre e quindi tanta musica dal vivo, pochissima televisione perché ho deciso di prendermi una pausa per un po' di tempo dalla televisione perché ho ritrovato la gioia di suonare, di cantare, di guardare in faccia la gente, ne avevo tanto bisogno e tanta voglia. Non intende rinunciare a suonare di nuovo in Russia, l'evento sarebbe in calendario per il prossimo autunno. La Russia in questo momento è abbastanza blindata però ho delle richieste da tutte le altre nazioni limitrofe dell'ex USA, dal Kazakistan, Azerbaijan, Estonia, Lettonia, Kyrgyzstan e quindi sto andando. Già sono andato due volte proprio negli ultimi giorni, una volta a Uralsk che è la città kazaka sul fiume Ural possono essere stato ad Almaty, ad Astana e adesso partirò per Baku quindi assolutamente sì ma ho in progetto anche a novembre di andare a fare uno spettacolo al cremelino a Mosca perché la musica va oltre ogni tipo di secondo me di preconcetto culturale e va oltre quelle che sono, io faccio un mestiere, che va oltre quelle che sono le decisioni politiche che i politici possono prendere quando e come vogliono ma che non devono danneggiare la cultura di un popolo che sopravvive sempre ai politici di turno.